Buongiorno a tutti, mi presento, io sono Miriam Giannuzzi e sono una dei quattro rappresentanti d'istituto di quest'anno scolastico 2020-2021. Questa mattina è stato affidato anche a me, oltre che ai docenti, l'arduo compito di presentare il nostro polo liceale. L'unica differenza però sta nel fatto che lo racconto dal punto di vista di un'alunna. Mi piace associare tantissimo il nostro istituto ad un arcobaleno. Per il semplice fatto che ho notato che qui ogni membro, ogni esperienza vissuta, ogni sguardo incontrato e ogni sorriso scambiato sfrigionano un colore diverso. Poi qui ogni persona ha la possibilità di migliorare e di maturare e di crescere sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista umano e questo non è assolutamente scontato. Io in realtà sono quasi addirittura d'arrivo perché frequento il quarto anno, però posso assicurarvi che il più bel insegnamento che questa scuola mi abbia dato sia quello di non avere limiti. Anzi, di averli sì perché sono indispensabili, però solo se sono accompagnati dall'obiettivo di condursi oltre, sempre. Qui ogni persona che entra a far parte della nostra famiglia diventa una nuova nota sul nostro pentagramma, un nuovo colore sul nostro dipinto o ancora un nuovo tassello nel nostro puzzle. Dobbiamo entrare nell'ottica che la scuola non è solamente sinonimo di banchi, di interrogazioni, di studi incessante o di ansie e anche quello, devo essere sincera, noi studiamo tanto e soprattutto come ogni percorso è costituito da alti e bassi. Però noi qui abbiamo la possibilità di vivere attivamente la scuola, questo perché ci confrontiamo, condividiamo idee e opinioni, studiamo ma ci divertiamo anche e soprattutto stringiamo delle amicizie, legami che poi ci porteremo sempre nella nostra vita. Infatti io per esempio qui sto imparando a vivere e a capire è abbastanza difficile, guardandola però ogni singolo giorno con prospettive differenti e con occhi e orecchie piene di curiosità. In questo istituto nessuno viene messo da parte, ognuno di noi ha la possibilità di esprimere la propria passione. Mi piace tantissimo anche sottolineare il fatto che qui noi riusciamo a costruire e diventare. La parola chiave infatti per noi è insieme. Amiamo metterci in gioco, infatti corriamo il rischio e a volte cadiamo, con l'unica differenza però che con l'aiuto dei nostri professori e dei nostri compagni riusciamo a rialzarci e anche a testa alta. Quindi, e concludo, il nostro istituto rappresenta per noi una famiglia e armonia. E spero che anche voi, qualora decidiate di intraprendere un nuovo viaggio proprio tra queste mura, respiriate la stessa aria di casa e di famiglia che noi sentiamo dal primo giorno in cui questa scuola è entrata nelle nostre vite, diventandone praticamente parte integrante. Adesso tocca a voi.